E da mani sapienti arrivano anche le canoe vincenti di questi ultimi anni. Ne fanno uso ben 25 federazioni internazionali. Arrivano da Donoratico in provincia di Livorno e allora andiamo a scoprirle con Robert Lee. Sono le canoe più utilizzate nelle competizioni internazionali e sono costruite in Toscana a Donoratico dalle manifestazioni irridate 2017 dove con queste imbarcazioni sono stati conquistati 43 ori, 40 argenti e 38 bronzi fino ai recenti europei di specialità Costal Rowing in Francia dove le medaglie vinte sono state 10, 5 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Leader mondiale nel settore, il titolare dice vorremmo fare grandi cose anche a Tokyo. Il nostro obiettivo è arrivare a Tokyo e vincere ancora più medaglie perché l'abbiamo vinto a Rio quindi questo è il nostro obiettivo, è mantenere la nostra leadership nel mercato, nel settore. Siamo circa un centinaio di persone quindi veramente è un lavoro 90%, 99% fatto a mano quindi la mano d'opera ai ragazzi è il cuore dell'azienda quindi senza di loro non si sarebbe fatto niente. Oltre 20 le nazionali che gariggiano su canone prodotti a Donoratico e grande importanza viene data ai materiali. Tutto prodotto in carbonio, tutto prodotto tramite resine, in questo caso di strutture prettamente aeronautiche la leggerezza è fondamentale in queste imbarcazioni e quindi Onicom, carbonio e strutture di alta performance.